gruppo 1 e gruppo 2 va in mezzo fra Wurzok e il Velvo allora soprafazione 7 secondi e te la prendi tu ok esatto appena te lo fa lo prendi bravo e prendi squarciacati esatto ok si è caduto no lo squarciacarne io l'hai preso troppo presto gruppo in mezzo gruppo in mezzo quindi io ora tienilo tu adesso tutti sotto tutti sotto riprenditelo restate sotto restate sotto adesso lo squarciacaroni io l'hai preso adesso lo squarciacaroni io l'hai preso adesso lo squarciacaroni io l'hai preso lo prendi tu? lascialo a me che fa soprafazione a me squarciacaroni tu adesso lo da gruppo 2 pronto per andare a in mezzo e adesso lascialo a me che fa l'altro soprafazione ok perfetto lo devo prendi? quando ti finisce squarciacaroni? gruppo 2 in mezzo gruppo 2 in mezzo prendilo adesso no vieni qua stai qua non torna qua prendilo bene ok io ce l'ho non mi procca un cavolo tutti sotto tutti sotto tutti sotto perfetto così appena mi finisce devo affamelo bene così andiamo avanti così state sotto ok adesso gruppo 1 pronto andare forse ho sbagliato no è giusto è giusto squarciacaroni tu via via sul verde gruppo 1 in mezzo appena ti finisce il debuffo lo prendi ma parte sempre in carica no lascia non è importante prendilo tutto qua tutti sotto no cazzo ha messo squarciacaroni su di lui occhiamette devo prenderlo? no no lascialo a me vabbè restate sotto restate sotto voi appena fa questo via via appena ti finisci il debuffo prendilo gruppo 2 pronto ce l'ho ok ho squarca carne via via gruppo 2 in mezzo ora non c'è sotto lascialo a me vabbè no vabbè ho preso ho preso guarda prenditelo eh prenditelo tutti sotto tutti sotto ma va bene ma va bene va bene e lo recuperiamo adesso lo prendo io e lo tengo io ok lascia da me prendi solo prendi squarciacaroni via via gruppo 1 pronto perfetto 1 e mezzo tutti ai lati appena finisci lo riprendo bravo sul verde un gruppo 1 e mezzo occhio che adesso fai più maggiore mettiamoci qualche città ti downwarp tutti sotto tutti sotto prendilo 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 ok bravo stazione che comincia a fai danni intenzione no ma fa troppo danno è normale è adesso sì dobbiamo resistere via adesso via pronto gruppo 1 no ho sbagliato gruppo 2 quando ti finisci scorza di carne prendilo spero di stare attendo con lo spirit link se va male ai tank rimango qua fermo adesso che ti finisce il debuff mett prendilo prendilo bravo tutti sotto tutti sotto tutti sotto tz bravo 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 grazie a tutti Grazie a tutti.